Di giorno lavorava come piastrellista in una villetta in ristrutturazione in via Radeo a Seclì. Per questo il ladro arrestato nella notte dei carabinieri dopo una rocambolesca fuga sui tetti, quell'abitazione la conosceva bene e sapeva come muoversi. Il tentativo di furto organizzato insieme ad un complice però è andato male. I carabinieri della compagnia di Gallipoli e Galatina hanno sorpreso i topi d'appartamento ancora in casa. Pierluigi Mangia, 35 anni, di Galatina, nel tentativo di fuggire ha scavalcato una rete metallica e caduto da un'altezza di due metri e si è ferito. Per soccorrerlo e tirarlo su è stato necessario l'intervento del nucleo SAF dei vigili del fuoco che hanno dovuto imbragare l'uomo e trasferirlo su un'ambulanza da qui poi in ospedale. L'altro ladro, Giovanni Fusco, 32 anni, anche lui di Galatina, è stato catturato subito. Ha provato anche lui a scavalcare un muretto ma è finito nelle mani dei carabinieri che avevano circondato l'abitazione. In quell'abitazione i militari ci sono arrivati poco dopo l'una. Fuori era parcheggiata una Ford Fiesta segnalata poco prima da un cittadino perché vista percorrere lentamente le strade del paese. I proprietari della villetta in questi giorni dormivano fuori proprio per i lavori di ristrutturazione. Mangia sapeva perfettamente di avere campo libero. I due avevano già accumulato in dei sacchi e caricato nell'auto la refurtiva gioielli, oggetti, 7 kg di rame. Non mancavano gli attrezzi per lo scasso nella droga, una dose di eroina. Per loro è scattato l'arresto per furto in abitazione aggravato e in concorso.